Bassano deve rispondere di danneggiamento aggravato, un 35enne residente in città, arci noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, tossicodipendente che l'altra sera, completamente ubriaco, ha quasi sfondato la vetrata del Deep Music and Tapas della centralissima Piazza Libertà. Una vendetta per essere stato messo alla porta dal barista, dopo che il soggetto era andato su tutte le furie all'ennesimo rifiuto di un drink, vista la sua alterazione alcolica. Il 35enne, chiuso fuori, ha primo urinato su una delle colonne, ha quindi preso una sedia dal plateatico e l'ha scaraventata sul vetro, incrinandolo. È stato bloccato dagli agenti del commissariato, avvertiti dal gestore del Deep. Per lui sono scattate una denuncia e una multa per ubriachezza, segnalato per violazione dell'ordinanza del sindaco in merito al divieto di urinare in pubblica via.